Gubbio vede e rilancia. Confermata la tradizionale mostra del tartufo bianco attesa ogni anno ad ottobre, alza la posta in gioco con un'edizione di giugno dedicata al tartufo estivo, che prenderà il via il 25 e si concluderà domenica 27. Un progetto voluto dal Comune, finanziato dalla Regione Umbria con il contributo di Afor, Agenzia Forestale e la collaborazione delle associazioni Oste, Iridium, La Medusa, la Porta dell'Umbria, nonché l'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Il fine è quello di creare un ideale ponte con l'evento autunnale per fare del prezioso tubero un vero e proprio brand, che racconti non solo la tavola di Gubbio ma la cultura, la tradizione e quanto sta dietro ad un prodotto tipico identitario di un territorio. Crediamo che debba iniziare un discorso, un ragionamento generale sul tartufo. Dobbiamo infatti iniziare a pensare a ricostituire l'associazionismo dei tartufai, a promuovere e a valorizzare ulteriormente con la cucina questo prodotto che, seppur povero rispetto a quello pregiato bianco, è quello più usato e quello più cucinato. Prioritario ha spiegato in collegamento streaming Antonella Brancadoro, direttore dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, la valorizzazione dell'Associazione dei Tartufai, strumento importantissimo per documentare l'attività di ricerca con i suoi aneddoti e le sue peculiarità, contribuendo alla causa comune delle città del tartufo di ottenere dall'UNESCO il riconoscimento di questa pratica come bene immateriale. Di questo, nel giorno dell'inaugurazione, venerdì 25 giugno alle ore 11.30, si parlerà nel convegno moderato dalla stessa Brancadoro al Chiostro di San Francesco, sede logistica della Tre Giorni che accoglierà anche gli stand. Altro momento di dibattito, sabato 26 giugno alle ore 11.30, con ospite d'onore la città di Alba e nel pomeriggio alle 17.30, tavola rotonda in collaborazione con l'Associazione dei Celiaci dell'Umbria e quella dei Diabetici Eugubini su cibo, zucchero e glutine. Domenica 27 giugno appuntamento alle 17.30 con lo chef Gennaro Esposito e la simpaticissima Rosita Merli, la cuoca Eugubina e ridata vincitrice del talent show Cuochi d'Italia. E' un grande onore, veramente, è una cosa molto emozionante, è una cosa molto positiva ma poi incontriamo Gennarino, viene a Gubbio, è un grande onore perché è un grande chef io ne sono onorata sia dell'invito sia di questa manifestazione grazie a tutti quanti grazie anche da parte di tutti i ristoratori ma devo dire incontrare Gennarino, beh mi emoziono. Nella tre giorni percorsi d'arte e di gusto a cura delle singole associazioni e della Gubbio Food Experience che domenica 27 alle 19 presso i giardini di Palazzo Ducale darà vita ad una serata di degustazioni con chef Esposito. E' una rinascita che fa ben sperare per tutta la seconda parte dell'anno sulla quale abbiamo tra l'altro già predisposto tutta una serie di importanti iniziative e questa riguarda il cibo, il buon gusto, la buona tavola ma anche diciamo la cultura proprio del prodotto tipico, del tartufo e così via e poi avremo la stagione del teatro romano avremo il palio della balestra, la corsa in salita delle fagioli, il festivale del medioevo la mostra su Nelli unitamente alla città di Fabriano quindi un momento espositivo molto significativo fino ad arrivare al periodo natalizio e diciamo rispetto al quale speriamo di poter confermare tutti gli appuntamenti. E' chiaro che questo deve andare di pari passo con atteggiamenti responsabili, guai se dovessimo ricadere in ulteriori problemi legati al Covid, vedi varianti e quant'altro, speriamo che la campagna vaccinale che sta andando avanti comunque abbastanza speditamente ci aiuti in questo però ecco occorre senza altro grande responsabilità da parte di tutti.